Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi in visita a Catanzaro per l'inaugurazione di un centro operativo della DIA ha promesso più sicurezza nei territori e rinforzo degli organici e ha fatto riferimento all'omicidio del caporal maggiore dell'esercito a Centocella a Roma. L'intervista è di Francesco Paravati. Ci sarà sicuramente un'implementazione degli organici, confidiamo molto sulla capacità di applicare sempre di più la professionalità della DIA in questi territori. C'è un problema di sicurezza sui territori, un caporal maggiore è prestato a morte a Roma, un poligiotto minacciato con un colpello a Catanzaro, tutto in una notte e anche un gabbizzato nella capitale. Sì, sono purtroppo fenomeni sui quali ci stiamo lavorando, le forze di polizia, nel caso del militare a cui lei faceva riferimento, stanno lavorando per l'individuazione dei responsabili. Questo fa sì che ci impegna sempre di più a rafforzare le strutture di polizia. Ci stiamo lavorando anche in termini di rafforzamento sia degli organici che delle capacità operative.